Anticipazione una vita, giovedì 6 agosto 2020. L'Ollita discute con Antonito riguardo alla vendita del brevetto delle macchinette da caffè. Il ragazzo è ostinato e la donna conclude che non può ragionare con lui, è tutto inutile. È fermo nelle sue posizioni ormai. E Noveva cerca di sedurre Antonito e convincerlo che il meglio che può fare è non ascoltare la moglie e investire. Ramon mentre continua le sue indagini sul banco americano e dopo aver ricevuto un telegramma urgente con informazioni sull'investimento parte per un viaggio segreto. Camino si addormenta nel ristorante al termine del grande evento. Lì parla nel sonno e Cesario la sente. Felipe conferma ad Agustina che la diagnosi della dottoressa Maduro era falsa, non è malata. Anzi è in perfetta forma. Grazie a tutti.